Esterno. Giorno. Un uomo si aggira silenziosamente in un porto, quando all'improvviso... No, no, no. È in un deserto. In mezzo ad un inseguimento. No, è lui ad essere inseguito. Da un aereo. Ricominciamo. Un uomo sta tornando a casa. Quando? Nuova Jeep Compass. Tua da 269 euro al mese. Con due anni di manutenzione e quattro di garanzia. Grazie a tutti.